Alcune cose che conviene ridire magari con dei disegni un po' più puliti visto che poi alla fine abbiamo accumulato un disegno abbastanza congestionato quindi di nuovo stiamo discutendo il problema di descrivere l'andamento di una funzione ovviamente le funzioni che sto descrivendo non sono patologiche i matematici e il loro mestiere vanno a guardare con estrema calma e estrema rigore tutti gli aspetti di questi giochi ovviamente loro poi stilano una lista di patologie che una funzione può avere e che potrebbe avere e che non deve avere se ho una buona definizione derivata, è ovvio che io sto considerando funzioni continue, ben definite è ovvio che la funzione non può avere asperità di questo tipo, come potete immaginare in questo punto, quando io magari accento un po' la curva qua facciamo anche un'asperità di questo tipo ma si dai, è più o meno la stessa cosa è evidente che se io considero questo punto qui e comincio a costruirmi dei rapporti incrementali scegliendo quel punto e un altro punto se io scelgo questo punto qui come il secondo punto vi ricordo che un rapporto incrementale serve avere due punti no? vabbè io avrò la pendenza del segmento che congiunge questi e il rapporto incrementale e mi sta bene quando tengo fermo questo punto e mi avvicino a questo del famoso limite che io voglio discutere che è delta x tende a 0 vedete che il mio rapporto incrementale è la tendenza del segmento che congiunge questi due e ovviamente vedete che lentamente ho una ho questi segmenti che congiungono i punti la loro pendenza tende verso un valore che si assesterà dove è il gesso colorato questo si assesterà magari a questa retta qui cioè avvicinandomi da destra tenendo fisso questo punto tutti questi segmenti che congiungono i due punti tendono ad avere la pendenza di questa linea gialla quando questo è x0 e questo era il mio x0 più delta x quando ho un delta x maggiore di 0 ho questa situazione qui poi nel limite che questi delta x maggiore di 0 tendono a 0 i rapporti incrementali tendono ad avere la pendenza di questa linea gialla se invece ho un delta x negativo e quindi mi sto avvicinando al punto fisso da sinistra vedete che la situazione è diversa per esempio con questo punto qui con questo delta x negativo questo è il valore di delta x il segmento che congiunge questi due punti è questa e ha una pendenza positiva in questo caso se mi avvicino con delta x tendendo a 0 ma da sinistra vedete che il segmento adesso ha una pendenza e potete così che il rapporto incrementale da sinistra tende ad avere il valore della pendenza di questa retta questa retta è già rosa quindi nel punto x0 qual è la derivata? non è ben definita perché se andate da destra avete un valore se tendete da destra avrete un valore da sinistra avete un altro valore quindi qual è la derivata del punto? quindi la funzione è continua ma con quella asperità la derivata non è ben definita quindi questa è una funzione che non è derivabile in quel punto ma queste sono cose che sapete già proprio perché io so bene che spero di dire cose che soffiate già io mi auguravo di trovare nessuno che ha detto stamattina sia perché non mi sono ancora ripreso in salute sia perché il fatto di vedervi qua perché? strano siete giovani fareste in teoria altre da fare se sapete già queste cose perché siete qua? ma sapete già queste cose? va bene allora variabile dipendente rappresentazione pseudo-cartesiana della funzione quindi sull'asce delle ordinate mettendo la variabile dipendente la dipendenza è espressa tramite una funzione f di x di nuovo avete la vostra classica funzione scegliete un punto che vi interessa che so questo punto qui e vi chiedete qual è la la derivata e tirerete una bella redda che è tangente alla funzione mi sono dimenticato anche stamattina il mio righello così così potevo tirare delle reti questo vedo da qua che non è dritta ma dai ho usato un po' di immaginazione e dite va bene qual è il valore della funzione qua per un grande valore di delta x allora il valore vero della funzione è questa ma potete vedere che il valore dell'estrapolazione lineare in realtà è ben quassù e potete vedere dal disegno che stimare il valore della funzione qui fare una stima e metto una stima lineare per ricordarci che sto immaginando che conoscendo il valore della funzione qua prevedo il valore della funzione qua nell'ipotesi che la funzione non cambi pendenza nell'intervallo x0 x0 più delta x se suppongo la funzione non cambia la sua appendenza e quindi spero che vada su qua io prevedo che il valore sarà questo e in realtà è questo commetto un grande errore e se io vi chiedo che tipo di errore qual è il percentualmente qual è l'errore che sto commettendo secondo voi espanne intanto sovrastimando o sottostimando questo è un ritasso di idea sovrastimando perchè la funzione vero è io dico che è qua su cioè sparo alto ma percentualmente quanto ho sparato alto? secondo voi? eh? 80% cioè cos'è l'errore relativo? vero e questo è l'errore questo è il valore vero ok? quindi l'errore sul vero vedete che l'errore è confrontabile col valore vero se questo è l'errore vedete che sarà 80% del valore vero è un grosso errore se voglio commettere un errore più piccolo usando questa stima lineare quindi dovete ricordare cos'è la stima lineare è molto semplice è la stima costante questa è il tirare indovinare più minimale che la funzione non cambia quindi se volete la potreste chiamare questa è la stima costante cioè dico che la funzione non cambia però ammetto che siccome conosco la derivata quindi la funzione non è in quel punto costante è una pendenza non zero prevedo stimo che prosegue la funzione proseguerà con quella pendenza e quindi quanto salirà la funzione a partire da questo valore? quindi questo è il valore questo qui pulisco un po' il disegno una cosa che abbiamo fatto ieri ma è molto importante ve l'ho usato ripetutamente quindi questa qui è il valore f quindi si individua questo triangolo qua con questo cateto che è il cateto delta x quindi questo è delta x e poi a partire da questo valore iniziale la retta gialla mi dice che io devo salire di quanto quindi la domanda è qual'è il valore di questo cateto qua e questo cateto qui come dovrebbero sapere tutti chiamiamola è la tangente dell'angolo teta questo è l'angolo teta qua moltiplicato il cateto delta x d'accordo? qual'è la trigonometria? è la tangente dell'angolo chi è? per l'appunto è la derivata dall'uso della notazione dei matematici nel punto x0 e questo questa è la vostra stima quindi io la scrivo anche in una rotazione che useremo durante il corso quindi uso tutti e due va bene? questa è la stima della questa è la costruzione la stima è? qual'è la pendenza moltiplicata per il cateto orizzontale? quindi se usate un cateto orizzontale più corto beh faccio fare il disegno eh questo è il triangolo è evidente che io uso cateti più corti di quanto salgo è indirettamente proporzionale a qual'è il cateto delta x banale quindi se io invece di provare a stimare il valore della funzione qua fuori che fosse troppo ambizioso il cercare di prevedere il comportamento di una funzione che era un punto troppo distante x0 per vedere cosa succede io scelgo una delta x più piccola e adesso il valore vero è questo il valore della stima è questo e vedete che l'errore più piccolo e l'errore percentuale provate a stimarlo dal disegno cosa sarà? questo uno è difficile meglio così mi fa male la mano così uno due tre quattro cinque sei sette otto nove eh? è quasi dieci per cento è quasi una parte su dieci uno su nove ok? quindi qua ho un errore relativo dell'ottanta per cento qua ho un errore relativo che è già inferiore al dieci per cento no è maggiore del dieci per cento uno su nove è più grande è uno su dieci eh? quindi sarà cosa? dodici per cento d'accordo? voglio un errore più piccolo scelgo questo delta x il valore vero è questo e il valore della stima lineare è quello lì e io non cerco nemmeno di contare ma potete vedere che l'errore è più piccolo d'accordo? ma è l'errore relativo che è quello che ci interessa va bene? quindi questa stima qua diventa arbitrariamente buono a patto che voi scegliate un delta x sufficientemente piccolo d'accordo? quindi questo è il disegno tenere a mente il rialzo della funzione è direttamente proporzionale a qual è la base di questi triangoli per una data pendenza si intende e quella pendenza data è per l'appunto il valore della derivata nel punto x0 quella è la pendenza della retta tangente a quel punto quindi io posso fare stime ottime a patto di scegliere delta x sufficientemente piccole questa è un po' l'idea che deve entrarvi in testa l'abbiamo usato ieri per la dimostrazione della teorema che la derivata del prodotto delle funzioni è uguale alla derivata della prima moltiplicata per la seconda non derivata più la prima non derivata per la derivata della seconda l'ho recitato bene, vi parlo di scegliere proviamo a usarlo per il quoziente per il teorema per la derivata del quoziente di una funzione allora immaginate avere una funzione f di x e un'altra funzione g di x che considerate un intervallo di valore di x dove la g non è 0 se no ovviamente il rapporto non è ben definito e considerate quindi una funzione costruite una funzione come il rapporto di quei due numeri come abbiamo fatto ieri il rapporto incrementale di questo lo si fa molto facilmente in definizione già un rapporto incrementale è hx più delta x meno h di x questo è il rapporto incrementale prima cosa da scrivere poi si guarda la definizione di h e lo si usa quindi faccio f quindi adesso devo scrivere questo primo pezzo quindi devo scrivere l'espressione di h quando l'argomento è x più delta x quindi h è... adesso scrivo questo chissà quanti di voi saranno impegnati da avuti nel difendere la terra da asteroidi? ieri sera ho visto certo che focus ogni tanto è abbastanza interessante ma anche deprimente ieri sera ho parlato sull'effetto di un mega disastro su un asteroide lui si chiede ma perché tutte queste robe qua le lezioni, il governo, l'insegnare fisica eccetera se tanto verremo spazzati via da un'altra catastrofe planetaria? forse la nostra salvezza è proprio se voglio indicarci anche argomenti che posso osservarci come deviereste un asteroide? ok se lo sapete cos'è il concetto di velocità che è una derivata quindi dov'è che useremo il teorema dov'è che useremo le stime lineari? le usiamo qua prendo questo qui e provo a stimarlo a riscriverlo in quel formato A userò la notazione dei matematici userò questa notazione qua quindi la riscrivo quindi qua faccio stima uso stima uso stima lineare quindi questo signore la faccio così f di x più il valore della derivata del punto x per delta x faccio la stimola linea anche di questo quindi ho g di x più g' di x quindi questo è il valore della derivata del punto x delta x quindi questo è il valore iniziale della funzione e questo è il contributo in più che nasce dall'alzarsi di quel triangolo quindi questo è il valore di questo cateto d'accordo? questo è il valore di partenza e dovete sempre ricordare quello non scrivere mai le cose senza avere in mente come state facendo questo è il valore di partenza e questo è l'incremento dovuto al fatto che la funzione ha una pendenza e come quanto salirà? salirà di quanto è largo e proporzionale a quanto è largo delta x certo questa è una stima non è il valore vero di questo commetterete un errore quindi questo non è vero che è uguale è un circa uguale va bene? ovviamente questo fa male tutto diviso delta x ma siccome io voglio studiare la derivata di questa funzione cos'è la derivata? la derivata è un rapporto incrementale nel limite delta x tende a 0 quindi questa stima che non è il valore vero proprio nel limite che delta x tende a 0 che devo fare migliora sempre di più quindi si tratta adesso di andare avanti a manipolare questa bestia metto 1 su delta x fuori e comincio ad affrontare il numeratore allora ho questo e lo moltiplicherò per questo tutto diviso questo per questo giusto? quindi controllate che non sbaglio quindi faccio questo per questo quindi g di x f per x g di x tac questo è il primo sto facendo questo per questo adesso questo per questo quindi ho più questo f primo quindi f primo x g di x e ovviamente il delta x e ovviamente il delta x quindi per ora ho fatto questo per questo più questo per questo adesso meno meno questo per questo meno questo per questo quindi faccio questo per questo quindi faccio il delta x e qui quindi faccio il delta x e questo per questo quindi quello che ho scritto qua è la stima del rapporto incrementale ma è una stima che diventerà arbitrariamente buono proprio nel limite che sto studiando delta x è arbitrariamente piccolo allora questo non dipende da delta x è giusto? però è tale quale qua quindi questi due si ammazzano la vicenda d'accordo? poi ho questo delta x che posso cancellare subito da lui da qua e da qua quindi scriviamo cosa abbiamo finora così non ci perdiamo abbiamo f primo x g di x meno f di x lo scrivo già perché ho in mente sapete anche voi il risultato quindi ho questo numeratore e nel denominatore questa notazione qua posso scrivere questo? g quadro x sta bene? mi sta bene? questa è la stima del rapporto incrementale che può essere presa con un'ottima stima con delta x sufficientemente piccolo come vedete il numeratore non dipende da delta x il denominatore dipende da delta x però il numeratore è fatto da delta x un pezzo che non dipende da delta x e questo si quando delta x tenderà a zero questo pezzo mi sparisce però il denominatore non va a zero il denominatore è bello è diverso da zero e quindi ecco che concludo questo è il vostro teorema no? che l'ordinatore di derivata al rapporto di fxg è appunto f primo cioè facciamo così la notazione mia la derivata di f rispetto a x per g meno f per la derivata di g rispetto a x tutto fratto g quadro ok? vedete che sono semplici questi teoremi se uno sa usare l'idea della stima lineare d'accordo? va bene va bene c'è un altro teorema molto importante che sono? ok, mezz'ora quante di voi sanno usare excel? o uno spreadsheet? sapete cos'è excel? quanti lo sanno usare? sapete cos'è ma non lo sapete usare? alzate la mano quanti sanno usare excel? uno, due, tre? mani sparse? provate a usare excel per studiare un po' queste cose no? scegliete una qualsiasi funzione oh, macronica macronatica prendete questa funzione qua e nella pagina excel voi per esempio potreste fissare il valore x0 come parametri ovviamente mettete a da qualche parte cioè i vostri parametri sono a e x0 che discorsi mettete non so 7 e scegliete un valore che volete del 2 poi potreste per esempio fare una colonna di x oppure calcolare accanto il valore di delta x cioè scelto questo x qual'è l'incremento che serve a dare a lui per arrivare qui e poi con questi due valori qui calcolate il rapporto incrementale ok? cos'è il rapporto incrementale? lo sapete bene fate una colonna del rapporto incrementale e fate per delta x sempre più piccoli cioè forse è il caso di fare così fate una colonna di delta x di conseguenza x sarà uguale a x0 più delta x e qua scegliete un valore inizialmente grande e poi fate in modo che il valore diventa sempre più piccolo e fate il calcolo del rapporto incrementale fate questo fate questo fatelo siccome voi ci sono certi giorni che non la voglio di fare molto oggi è uno di questi per me sto lottando per fare il mio dovere un attimo di pazienza siccome voi sapete già la derivata no? qual'è la derivata? la derivata è semplicemente 2ax questo è banale lo sapete l'abbiamo mostrato ieri quindi provate adesso intanto se fate questo studio del rapporto incrementale per delta x che tende a 0 e provate a vedere come varia il rapporto incrementale potreste anche fare un grafico sapete fare grafici con xl ok? avendo scelto questo cioè avendo scelto quindi voi fissate un certo valore è evidente che fissate un certo valore voi automaticamente avete calcolato la derivata quindi la derivata è semplicemente 2ax0 questo è il valore della derivata quindi fissando questo la sapete a questo punto fate lo studio per esempio dell'errore relativo che commettete facendo la stima lineare fate il gioco quindi fate la colonna della stima lineare quindi la stima lineare di nuovo cos'è? è f di x0 più f' di x0 che questo è il valore che appare qua questo qui questo è f' di x0 questo appare perché l'avete calcolato quindi fate riferimento lì per delta x quindi questo è il valore vabbè dove sarebbe il valore della funzione è il valore della funzione x0 eccolo qua track appena fissate il valore di a fissate l'x0 queste due caselle sono calcolate il valore della funzione è il valore dell'arrivata poi usate quei due valori e il secondo lo moltiplicate per il valore di questa colonna quindi fate il calcolo della stima ovviamente il valore vero della funzione è questo ovviamente il valore vero della funzione è questo aspettate perché fate un valore vero nel punto x vi sfido a farlo ragazzi valore vero e a questo punto calcolate l'errore l'errore banalmente è semplicemente la differenza tra la stima e il valore vero ok? quindi questa è la differenza tra questo valore e questo valore qua quindi stima meno vero fate errore relativo che è quindi è errore fatto vero casomai questo lo moltiplicate per cento in modo che il valore che bisognerete sarà in percento e guardate cosa sta succedendo? tutto lì dovreste vedere quello che io ho cercato di descrivervi con i disegni cioè dovreste vedere la tabella comportarsi come si comportano i disegni ovviamente la funzione ha una parabola quindi la funzione in realtà è questa se voi scegliete un punto x0 questa qua la derivata è la pendenza di questa retta e quindi per un certo valore di delta x questo è il valore della stima questo è il valore vero quindi questo tipo di funzione si sta sovrastimando o sottostimando? sovrastimiamo o sottostimiamo? sottostimiamo in questo caso ok? quindi quello che appare quello che appare in questa colonna è questo valore quello che appare in questa colonna ovviamente è questo valore l'errore è questo l'errore relativo è quanto di questi stanno nel valore vero di nuovo è circa il tante per cento per quel valore di delta x poi prendete un delta x più piccolo che corrisponde a muoversi in questa direzione ok? e dovreste trovare un comportamento che vedete qual è più chiaramente il disegno sfidatevi a fare questi conti così imparate ad usare excel in contesto di fisica ok? c'è un... volevo già farvi questo discorso ieri ma non ho avuto tempo una domanda quanti di voi, quanti siete? ma sono 20 persone sarete un 60? no tanti quanti di voi secondo voi faranno questo esercizio a casa? ma va bene ma quanti non lo faranno perché sono pigri? o non lo sanno fare? perché un pigro che non lo sa fare va bene ma un pigro che non lo sa fare è un guaio una persona piena di energia che non lo sa fare ha speranze no? perché lui può accettare la sfida ma comunque voi cosa siete? solo pigri? lo sapete fare? o non lo sapete fare? se non lo sapete fare provate a farlo va bene allora c'è un'altra situazione dunque io userò semplificherò un po' la rotazione invece supponete per esempio di avere la rotazione che ho usato finora e che se y è la variabile dipendente e c'è una certa dipendenza c'è una certa funzione che lega x la vera variabile dipendente a y io finora l'ho scritta così per semplificare la rotazione userò questa che credo che avete già visto non avete mai visto questa notazione? dove con questa scrittura intendo dire che y funziona x va bene? allora immaginate di avere una funzione z che dipende da y ma y a sua volta dipende da x quindi a ben guardare in ultima analisi la z è una funzione di x ma che funzione di x? cioè in ultima analisi la z è una funzione di x dipende da y? si ma y dipende da x quindi in ultima analisi z dipende da x e sono chiamato le funzioni composte d'accordo? un esempio che faccio ogni anno perchè l'impero romano è caduto? e una delle ipotesi è perchè sono venuti i goti ma perchè sono venuti i goti? perchè sono venuti gli uni che hanno sospinto i goti verso l'impero? ma perchè sono venuti gli uni? perchè c'era una carestia nelle steppe? e perchè non sono andato in altra direzione? perchè i cinesi erano nel muro? perchè in ultima analisi perchè l'impero romano è caduto? perchè c'era una carestia lontano questo è quello che cerco di fare gli storici ovviamente è molto complesso questa catena di come potrei dire di un legame causa-effetto nella storia è molto tenue invece in fisica e in ingegneria ci sono delle funzionali delle dipendenze molto ben caratterizzate matematicamente allora io mi chiedo qual'è la derivata di z rispetto a x allora supponete che io conosco questa funzione z come funzione di y e quindi supponete che io sappia la derivata cioè io conosco la derivata di z rispetto a y magari la scrivo così la derivata di z rispetto a y conosco questa funzione e la sua derivata supponete di conoscere questa funzione e di conoscere la sua derivata la derivata di y rispetto a x ma non è quello che voglio sapere quello che voglio sapere è qual'è la derivata di z rispetto a x ok? vi dico subito la risposta come si fa? allora nei vecchi libri di nuovo è un peccato che ci sia questa questa telecamera perchè farò una cosa che un matematico non riderebbe quindi voi dovete farlo nella vostra testa io mi assumo la responsabilità nello scrivere una lavagna e lasciarlo ai posteri però se voi prendete dei libri di matematica di cento e passa anni fa vedrete quello che ho fatto perchè ha un valore didattico molto forte voi volete sapere qual'è la derivata di z rispetto a x? allora fate una cosa del genere fate una cosa del genere fate una cosa del genere c'è questo proprio in un libro che ho del 1905 cioè letteralmente ti dicono create uno spazio poi quello che scrivete qui e quello che scrivete qui devono essere la stessa cosa perchè nella vostra testa formalmente si devono elidere posso essere veramente insistente su questo supponete che la x a sua volta non è l'ultima variabile che la x a sua volta supponete che dipenda da da w ma neanche w è l'ultima spiegazione l'ultima del comportamento delle cose è che w è una funzione di cosa possiamo usare? qualche simbolo strano non so, eta allora in ultima analisi tutta questa cosa è z z è una funzione di y che è una funzione di x che è una funzione per seconda di w che è una funzione di eta sta ovviamente diventando ridicolo in ultima analisi z è una funzione di eta e la domanda è qual è la derivata di z rispetto a eta vediamo perchè non voglio stare qua a perdermi il riconto mettiamo a delta delta eta qua abbiamo y y poi x x poi w w e ne ho fatto nulla di troppo e questa è la vostra risposta guardate come è fatta di nuovo avete questa che è imparentata con lui cioè dovete pensare a poterli ellidere perchè c'è uno sotto e uno sopra si possono mentalmente cancellare questo si può cancellare con questo questo si può cancellare con questo invece questo non si cancella rimane la variabile ultima da cui z dipende e questo è rinunciato quindi è molto semplice da ricordare e anche da usare per esempio c'è un esempio classico che riprenderemo 100.000 volte l'anticipazione del corso è un numero sempre molto alto di voi all'orale per qualche motivo si perde queste semplici cose lo faccio adesso con l'anticipazione del corso lo rifarò a lezione quindi potete anche risparmiare gli appunti in questo momento e per esempio lo prendo proprio dalla cinematica quindi il moto circolare uniforme quindi questo è il piano xy è un moto sto per descrivere il moto di una particella in una particella ed è un moto circolare cioè la traiettoria della particella è in un cerchio un cerchio decente ok? questo è il luogo di punti che la particella tocca al passare del tempo il raggio del cerchio la chiamiamo R e io sto per scrivere la funzione dunque siccome il moto viene nel piano ho bisogno di specificare la posizione della particella al passare del tempo quindi la sua posizione sarà qua e come potrò specificare la sua posizione? beh è sul cerchio sta a un certo angolo gli angoli verranno misurati come abbiamo detto dalla direzione x in senso anti-orario quindi la sua posizione uso la trigonometria del cerchio unitario e dico che la posizione della particella sarà R coseno dell'angolo teta e la coordinata y è uguale a R seno dell'angolo teta ok? va bene? adesso supponete che teta vari nel tempo perchè se teta non cambia il tempo la particella sta là e non si muove se voglio che la particella si muova sul cerchio basta che io dica come cambia l'angolo l'angolo del tempo d'accordo? quindi se io dico che l'angolo cambia il tempo in questo modo guardo la funzione angolo in funzione del tempo se dico che l'angolo nell'istante t uguale a 0 vale un certo valore teta 0 e faccio questo grafico qua cosa succede? che la particella è a un certo angolo per esempio questo angolo qua teta 0 e sta fermo, non fa nulla siete d'accordo? se invece ho un grafico di questo tipo sto dicendo che all'istante iniziale la particella era qua inizialmente nell'istante t uguale a 0 questo è qui poi dopo un intervallo di tempo facciamo tacche di tempo così dopo un primo intervallo di tempo la particella si trova a questo angolo qua dopo un ulteriore passaggio di tempo di un'uguale durata la particella si trova a questo valore di angolo dopo un altro intervallo di tempo di uguale durata si trova qui e potete vedere che al passare di intervalli di tempo uguali l'angolo cresce della stessa quantità perché è un andamento lineare per come ho voluto immaginare questa dipendenza dall'angolo del tempo quindi inizialmente la particella si trova qua dopo un intervallo di tempo si trova qua dopo un altro intervallo di tempo uguale delta t si trova a un angolo che è il doppio di quello di prima dopo tre intervalli di tempo l'angolo è tre volte quindi la particella avanza in senso anti-orario in maniera regolare a intervalli regolari del tempo l'incremento angolare è sempre lo stesso questo si chiamerà ha un moto circolare uniforme la parola uniforme è nel dire che a intervalli regolari del tempo l'incremento angolare è sempre lo stesso quindi questa parola qua è strettamente legata al fatto che questa è una retta è una dipendenza lineare va bene? se questa non fosse una retta parabolica se fosse per esempio una qualsiasi altra dipendenza o parabolica questo vuol dire che dopo un intervallo di tempo l'angolo è qui dopo un uguale intervallo di tempo l'angolo è aumentato ma la variazione angolare è maggiore di quanto era nel primo intervallo di tempo in un altro intervallo di tempo uguale la variazione angolare è ancora più grande vedete che queste variazioni dell'angolo indotto dal passare del tempo non è regolare ok? quindi la particella dopo un primo intervallo dopo il primo piccattio magari è qua dopo il secondo è qua dopo il terzo è qua dopo il quarto è qua vedete che l'andamento non è regolare infatti questo si chiama la moto circolare perché la particella si muove in un cerchio come faccio a sapere che si muove in un cerchio? perché per qualsiasi valore dell'angolo per qualsiasi valore dell'angolo questo punto dove si trova? speriamo che si trovi sul cerchio facciamo la veloce verifica perché c'è sempre gente che capta le nuvole questa è la legge che specifica qual è la coordinata x quando l'istante t vale top come si fa a calcolare la coordinata x? beh r per il coseno e l'angolo all'istante t eccetera allora ovviamente uno si chiede ma dov'è la particella? siamo sicuri che succede? ma si e ovviamente uno cosa fa? fa questo no? e verifica che questo vale r quadro perché questo sarebbe r quadro cosen quadro di teta funzione del tempo più r quadro sen quadro dell'angolo teta nell'istante t ovviamente questi due addendi hanno in comune r quadro cosen quadro e questa roba qua vale 1 perché cos'è il quadro? e se è il quadro dello stesso angolo vale 1 d'accordo? quindi indipendentemente dalla legge di come l'angolo vale del tempo sarà sempre sul cerchio quindi sono moti circolari ma possono essere uniformi quando la dipendenza dall'angolo del tempo è una retta d'accordo? va bene dove voglio andare a parlare? voglio applicare il teorema della derivazione delle funzioni composte che abbiamo appena rapidamente enunciato a questo esercizio alla meccanica voi direte ah! io allora dirò la velocità la velocità professore ho due velocità in questo esercizio ho due velocità perché ho la velocità intesa come la derivata di x rispetto al tempo ma ho anche la derivata di y rispetto al tempo perché la velocità è una derivata questa si chiamerà la velocità nella direzione x questa si chiamerà la velocità nella direzione y ok? quindi questa la scriveremo così con un pedice x e questa con un pedice y ho due velocità in fondo non mi devo stupire che ho bisogno di due velocità perché nel moto della particella perché nel moto della particella ho due coordinate devo capire dov'è lungo la direzione x e dov'è lungo la direzione y quindi ho due direzioni da considerare e quindi ecco perché ho due tipi di velocità una nella direzione x e una nella direzione y vedremo meglio questa cosa io voglio far vedere il teorema se questa è la definizione di velocità nella direzione x quant'è? allora questa è la definizione allora dobbiamo calcolarlo quindi dobbiamo fare la derivata l'operatore di derivata rispetto al tempo della posizione x che è questa quindi devo fare la derivata di questo signore quindi ho dr coseno dell'angolo che è funzione del tempo qua ho subito il primo teoremino idiota da applicare ho la derivata di una funzione moltiplicata per una costante cioè per qualcosa che non dipende dalla variabile dipendente la costante è r quindi subito la r esce fuori questo non mi serve per ora almeno subito la r esce fuori dall'operatore di derivata perché l'operatore di derivata è lineare quindi le costanti possono essere portate fuori d'accordo? derivata rispetto al tempo derivata rispetto al tempo di coseno di teta rispetto al tempo ok? e allora dice ah io devo fare la derivata del coseno attenzione voi dovete fare la derivata del coseno rispetto al tempo quindi uno potrebbe dire io non solo allora mi scrivo l'enunciato perché ormai la fine dell'ora è così e si finisce qua facciamo la derivata del coseno di teta rispetto all'angolo per la derivata dell'angolo rispetto al tempo ho appena applicato il teorema derivazione func composta cioè ho fatto questo gioco qua la derivata del coseno rispetto al teta rispetto al tempo ho fatto questo sapete quant'è poi magari adesso nella seconda ora faremo velocemente un ripasso di coseno e seni con le espansioni in serie di taylor eccetera questo cos'è? qualcuno derivata del coseno eh? meno seno giusto? ovviamente scrivo per il momento teta però alla fine teta è funzione del tempo quindi meglio scriverlo subito non dobbiamo eviticarci che teta ripeto e qua c'è la derivata di teta rispetto al tempo l'esercizio è finito nella misura in cui voi adesso specificate la legge di teta rispetto al tempo com'è teta? com'è varia teta rispetto al tempo? com'è varia? è così è così è così è così è così è così La scriveremo così, siccome è una retta voi potete dire che teta è lineare e dipende linearmente dal tempo, quindi sapete l'equazione della retta no? Addirittura questa retta ve l'ho fatta avere l'intercetta uguale a zero, poteva anche essere così, magari durante il corso faremo anche gli esercizi in cui scegliamo che l'angolo iniziale sia diverso da zero ma io sto scegliendo questo e quindi come lo scriverò? Come una qualche costante che moltiplica il tempo. Allora per convenzione come lo faremo nel corso del corso di fisica applicato poi all'ingegneria, i meccanici, le cose che oscillano, i circuiti elettrici, ci avete un circuito, una corrente che sta oscillando nel tempo, la convenzione invece di usare il simbolo A, si usa un simbolo greco che è l'omega, ok? E per ricordarci che questa omega è una costante come lo era per l'appunto la mia A, la gente mette qualcosa per ricordarli che questa è una costante e ci mettono un piccolo pedice zero. quindi in effetti questa cosa qua, vi dirò il nome durante il corso di fisica, non ha senso farlo adesso, è una costante, vi sta dicendo che l'angolo cresce linearmente con il tempo quando il tempo è zero l'angolo è zero ma al variare gli intervalli regolari del tempo l'angolo varia regolarmente e quindi il moto è un moto circolare, si ma uniforme, d'accordo? ma qual è la derivata dell'angolo rispetto al tempo, che è quello che mi serve per completare l'espressione della velocità nella direzione x, è semplicemente omega zero e quindi questo è l'ottimale di solito si scrive così, ok? Questo è il risultato ovviamente qua c'è un commento che farò ripetutamente nel corso, proprio per ricordarci qual è l'argomento del seno che io sto discutendo, adesso devo fermarmi quindi è l'ora, io per ricordarmi esplicitamente che un moto circolare riforme io la scriverò esplicitamente così coseno di omega zero fi, la coordinata y? la question, guardate l'argomento del coseno e seno, vi sta dicendo, l'argomento del coseno e seno è un angolo, averlo scritto così mi sta dicendo, io angolo dipendo linearmente dal tempo, quindi scriverlo così è un dire estricitamente chiaro di questo tipo, ok? e quindi per il moto circolare uniforme ok ci vediamo tra 10 minuti